sono tantissime le cose da dire oggi su bitcoin bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video iniziamo il mese di maggio con la candela rotta mensile bitcoin ha finalmente fatto aprile un mese rosso ragazzi bitcoin ha disegnato alla perfezione tutto quello che ci attendevamo ad aprile avevo fatto il video degli scenari attesi per il mese di aprile e così è stato non capita spessissimo perché ragazzi ok tutta quella che volete voi siamo in un mondo aleatorio quindi ovviamente noi andiamo a ragionare in termini di previsione ma ogni tanto vedete che se si fanno bene i compiti a casa il mercato ci dà ragione allora facciamo un'altra cosa oggi andiamo a fare la stessa cosa per il mese di maggio andiamo a capire dove siamo sulla posizione ciclica del mese per quanto riguarda bitcoin perché c'è una news importante poi andiamo a vedere la candela mensile che invece è fondamentale per tutto il mese di maggio quindi dovremmo stare con gli occhi aperti e utilizzare le informazioni del video di oggi per tutto il mese di maggio e poi tiriamo sulle conclusioni ragazzi perché sono due ore che sono davanti al grafico a decidere personalmente cosa fare con una porzione della mia parte hold ragazzi si so che magari molti di voi dicono ah ma la hold non si vende ma non è così per gli investimenti ragazzi hold significa acquistare detenere ma se avete acquistato anni fa in questo momento magari in alcune situazioni il caso di fare cassa soprattutto con una parte per snellire il rischio dell'esposizione finanziaria quindi si fa così quindi un po solo due ore ragazzi che guardo questo grafico lo so alcuni non ci credono ma è assolutamente così perché ho idea di andare a fare una vendita e vi dirò anche in questo video cosa ho pensato ragazzi allora intanto l'ho ritrovato diciamo per chi me l'avesse chiesto nei commenti del video su ethereum ragazzi ho ritrovato bitcoin va bene allora andiamo sui grafici ma prima vi chiedo come sempre i pollicioni ragazzi dai su coi pollici mi date una mano con il video e poi ragazzi dai su festeggiamo su coi pollici e maggio se l'immeggo e guai andiamo a vedere va ok allora nel momento in cui sto registrando in questa fase ragazzi bitcoin ha iniziato un nuovo ciclo mensile la fine del mese di aprile un po come sempre fa e da questo punto quindi al 25 di aprile partendo da 47 mila e 100 ha iniziato una fase di recupero e che era un po nell'aria insomma è stata una bella fase io l'ho tradata anche con un'operazione intraday che ho mantenuto aperta fino a domenica domenica ragazzi le chiudo perché è domenica allora insomma sabato sera poi domenica ho chiuso la mia operazione intraday con l'11 per cento di profitto ho indicato tutto nel canale telegram ragazzi come vi ricordo il canale telegram lo trovate in descrizione gratuito potete iscrivervi perché nell'ultimo mese sto lasciando tutte quelle che sono le mie operazioni e dico un po quello che faccio per aiutare il più possibile la community a stare sopra bitcoin in una fase che io ritengo e ripeto ancora delicata anche anche in via del massimo storico che ha fatto e th proprio oggi ragazzi che si sposa alla perfezione col video che vi ho detto ieri perché th ha già raggiunto i target di aprile era meglio che faceva il contrario cioè scendere da qui a metà mese e poi risalire invece ha raggiunto i target di maggio ragazzi non di aprile ok mannaggia ok andiamo a vedere questa cosa invece su su bitcoin qual è la fase ragazzi allora la fase in questo momento è la fase up del ciclo mensile un ciclo mensile come sempre dura intorno ai 30 giorni in questo caso probabilmente iniziato anche un nuovo ciclo trimestrale e questo porta bitcoin ad avere una buona forza nella prima parte del ciclo ora ragazzi molti di voi mi hanno anche chiesto mauro il raccordo su bitcoin davvero pensi che ci sia un raccordo per il ciclo annuale allora ragazzi c'è ancora una domanda ciclo annuale è stato chiuso su questo minimo il 25 di aprile sì o no perché è un minimo che basta per quanto riguarda analisi ciclica in quanto ha fatto un mensile ribassista che trovate qui quindi un minimo è un minimo più basso mensile ribassista sufficiente a chiudere un annuale un po ovviamente tecnicamente sarebbe un trimestrale ribassista ragazzi però sulle cripto diciamo che questa cosa non avrebbe molto senso vista la fase bull e quindi va bene il mensile ribassista però la cosa è un pochettino ragazzi quando ci sono queste fasi cicliche annuali un po complessa avete visto che è successo l'ultima volta a marzo insomma a volte capitano degli svarioni del mercato e poi il mercato va a fare dei cicli un po più persistenti in pratica poi se lo andiamo a valutare anche rispetto al precedente annuale quello che andava dalla ragazzi non si riesce neanche a vedere perché quello che ha fatto dopo ok comunque questo qui ragazzi ok che andava dalla dicembre 2018 quindi dalla pratica insomma la fine del mercato orso del 2018 poi ha chiuso l'annuale a marzo del 2020 450 giorni circa di annuale ragazzi 450 giorni non sono scaduti quindi è un annuale lungo 450 però ragazzi gli annuali realzisti molto realzisti come in questo di bitcoin che è incredibilmente realzista possono allungare anche abbastanza facilmente ragazzi perché il mercato si dice sale con per le scale scende con l'ascensore quindi quando il mercato sale ci mette più tempo quando il mercato scende ci mette meno tempo quindi voi immaginate che in un ciclo molto realzista si dilata ok ragazzi si allunga questo è il concetto quindi è possibile che il ciclo annuale sia ancora in fase di chiusura ovviamente questo ce lo diranno i prezzi perché come sempre al di là delle speculazioni che facciamo mentali poi sono i prezzi a darci la risposta quindi se bitcoin andasse sopra i massimi storici a 65 per me il ciclo annuale è stato chiuso poi tutto può succedere posso sbagliarmi come sempre può capitare e basta ragazzi però a quel punto sopra i massimi storici io dico che l'annuale è stato chiuso poi si vedrà allora al momento però la situazione attuale è in bilico perché abbiamo un mesetto in cui bitcoin può dire vado a chiudere l'annuale l'ho già chiuso e riparto oppure sto fermo in pratica può fare un po quello che gli pare perché le fasi di snodo ragazzi non sono mai le più semplici e sono fasi delicate perché è la giuntura ok dalla chiusura di un ciclo la partenza di uno nuovo quindi quando succede questa cosa nelle fasi centrali c'è un po di movimento perché non è possibile andare a capire alla perfezione che cosa sta facendo il mercato il mercato proprio stesso non lo sa ragazzi sta decidendo questo e quindi non è una questione di previsione perciò andiamo a ragionare sull'ipotesi di maggio come un mese delicato e andiamo a vedere tutto quello che può capitare gli altri erano pericolosi marzo è andato ok aprile no perché è andato rosso maggio ancora sulla scia di aprile ecco ragioniamolo così ragazzi ok nel momento in cui siamo in questo in questa fase quindi bitcoin ha iniziato la sua fase up anche ipotizzando un ciclo un po più cortino ragazzi da 25 giorni il 20 maggio è un momento particolare il 20 maggio è il mio compleanno me lo dico giusto perché se facciamo la chiusura dell'anno al mio compleanno festeggio con un disastro e che capo no vabbè dai speriamo di loro ragazzi a 20 maggio lo sposto ok lo faccio più lungo 27 ok il 22 maggio ok perfetto allora se bitcoin diciamo va a chiudere il suo ciclo annuale e lo fa con un raccordo quello che fa probabilmente essere molto veloci e fare una cosa di questo tipo ragazzi probabilmente andandosi o ad agiare sui 47 come vedremo fra pochi minuti che vi mostro il grafico con i livelli del mese potrebbe arrivare anche più giù questa cosa lo so che al momento sembra impossibile però poi andando ad analizzare dei dati lo vedremo proprio fa due minuti ragazzi tempo di finire qui e andiamo a vedere quell'altro grafico perché lì vedremo proprio dei prezzi vi sembrerà tutto molto più semplice ok movimenti importanti sì ma non anormali per un mercato come bitcoin ok quindi potrebbe fare una cosa del genere io lo valuterei come un raccordo e quindi neanche un mensile diciamo una decina di giorni 20 giorni in cui il mercato va a chiudere il suo annuale poi riparte allora qui insomma ok fase difficile però poi dopo da qui ragazzi ok poi ci riposizioniamo e facciamo i compitini per andare sopra quindi possiamo cavalcare l'ultima ondata dell'albing se dovesse essere così nel momento in cui invece il mercato allunga e fa una barra di trading range sporca le acque cioè fa questo per intenderci sporca le acque lì ragazzi e rimanda tutto al mese dopo però poi i ragazzi ok il trading range ma il trading range ragazzi non c'è niente da fare perché se il mercato sta fermo che facciamo niente ok stiamo fermi e non facciamo niente quindi ok perde tempo il mercato ci confonde le acque però è anche vero che non fa danni quindi diciamo tutto rimandato che rimandato a per gli esami di post maturità ok va bene e allora al momento io quello che diciamo preferisco come più ragazzi sono sincero ma è la più del raccordo così perché sarebbe quella più indolore e insomma darebbe più linfa a un eventuale rimbalzo un bitcoin già forte da qui e che va a rompere i massimi ci può stare assolutamente però una fase forse troppo piccola di chiusura annuale troppo poco pronunciata il mercato non ha fatto per i danni si meno 20 e qualcosa questa campari bassista però potrebbe essere che insomma poi magari esagera esaspera e le cose ragazzi come sempre insomma il mercato bitcoin ci ha abituato ragazzi poi a fare grandi impatti emotivi e quindi magari a gestire male queste situazioni in ogni caso la view del raccordo diciamo farebbe sì che il mercato poi va a toccare un fondo che magari può essere anche un doppio minimo un pochettino più alto ragazzi di questo e poi riparte con una fase più strutturata con le riserve di energia maggiori però al momento noi seguiamo il trend ragazzi come sanno quelli che si sono iscritti al mio canale telegram gratuiti ho pubblicato le le mie operazioni io sono long con il mid term già da un bel po e oltre all'old chiaramente la versione di breve long l'ho chiusa ieri ma ragazzi perché la domenica ok ve l'ho scritto anche ho pubblicato anche una super analisi sul canale telegram dove ho spiegato un determinato livello stra importante ragazzi quella analisi bellissima andatevelo a vedere perché veramente lì chi vuole approfondire la materia che vuole entrare dentro trova tante tante cose importanti però ragazzi allora avevo indicato anche lì un livello importantissimo che è tra 58 e 5 e 59 60 ragazzi ok questa zona in generale l'ho indicata proprio in quel video che è presente sul canale telegram come una zona stra importante di possibile arrivo di questa fase di alzista prima dell'eventuale chiusura nuova allora lì è il mio dubbio che vi dicevo prima se sono se vado a chiudere le posizioni old o no non tutte ovviamente è soltanto un altro 20 per cento perché un 20 per cento dell'old l'ho già chiuso quindi arrivarei poi al 40 close e aspetto di vedere un po le sorti del mercato va bene però diciamo allora questa è l'aria che dovete tenere a mente ragazzi anche per questo rialzo in questo momento siamo con un sottociclo di nuovo settimanale quindi qualche giorno dovrebbe reggere va bene qualche giorno dovrebbe reggere proprio il mio punto d'arrivo che avevo indicato in questo video che trovate gratuitamente sul canale telegram era proprio questa zona dove è arrivato questa mattina ragazzi proprio questo qui l'ho indicato in quel video andatevelo a vedere non ripeto se no insomma questi video dureranno 80 minuti ragazzi ok però allora detto questo andiamo poi a vedere invece quello che a livello mensile è stato fatto sul mercato allora vi faccio vedere la candela mensile di aprile e vi ho messo una super indicatore qui con già i livelli che sono impostati per il mese ragazzi allora intanto ingrandiamo qui in maniera tale da vedere la questione allora aprile ragazzi candela rossa benissimo spezza il ritmo però è anche una brutta candela perché questa è una candela di riflessione del mercato dove dice il mercato sto sono arrivato mi devo riposare che ma non è una vera 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 candela rossa quindi comunque ci sta però poi il mercato è ritornato a chiudere vicino all'apertura un po l'avevamo anche detto una cosa del genere sarebbe stato molto positivo e in effetti è stato così perché adesso il mercato ha una nuova chance di posizionarsi magari su oppure anche se scende comunque c'è tanto spazio per poter eventuale eventualmente rimbalzare perché il mese scorso è riuscito a recuperare quindi ha dimostrato molta forza e ragazzi allora quindi questa mese che appena iniziato ha secondo me una struttura di possibile movimento intorno a questi range che vedete qui ok ora non mi copiate questa l'ho inventato io quest'analisi così ok chiamoci citazioni sto scherzando va bene ragazzi allora andiamo a vedere insomma quali sono i livelli allora ragazzi questi questi sono i livelli secondo me di range che bitcoin potrebbe fare tra minimo e massimo del mese di maggio allora siccome il minimo di maggio al momento è molto basso è molto diciamo alto perché è questo qui a 56 se bitcoin non fa più minimi a maggio ragazzi arriviamo a 70k punto ok che lo dico arriviamo a 70k e in quel caso secondo me annuale chiuso e siamo sul nuovo annuale per cui il mercato ha iniziato una nuova fase quindi se voi sposate questa view come view principale possiamo anche arrivare per il mese di maggio a 70k tranquillamente non c'è problema ragazzi perché in quel caso sarebbe un nuovo ciclo annuale quindi probabilmente molto forte anche nella prima parte 70k non è neanche un eccesso rialzista lo so molti di voi dicono eccessori no ragazzi no statisticamente non è un eccesso rialzista sarebbe un 20 per cento la candela perdere 20 per cento ci sta 20 30 per cento non è anomala per bitcoin ok soprattutto in una bull run soprattutto su un nuovo ciclo annuale quindi questo lo può fare se inizia un nuovo ciclo annuale se invece non inizia un nuovo ciclo annuale cosa può succedere ok può succedere che il mercato in questo primo momento ragazzi tenti di andare sopra il livello di resistenza che in questo momento è l'opening di aprile ok ragazzi cioè 58 e 8 59 questo è il livello di resistenza per tutto il mese di bitcoin ragazzi ok questo è il suo vero livello di resistenza potrebbe aver fatto il famoso livello come fece 13.000 all'ultima bolla ragazzi del 2017 e poi da lì non l'ha più recuperato fino a quest'estate ok questo è importante 59 ragazzi stampatevelo in testa poi nel momento in cui riesce a superare ci chiude sopra nuovo annuale nel momento in cui non ci chiude sopra il mercato potrebbe avere difficoltà e allora potrebbe tentare il break andare in questa zona magari più o meno intorno ai 61 e dopo di che ragazzi svarione e se ne va giù non ce la fa a tenere i 59 e potrebbe potrebbe scendere fino a 45 barra 44 aggiornando il minimo del mese di aprile e indovinato un po chiudendo la nuova ok ce l'abbiamo fatta ok in soli 18 minuti ce l'ha fatta ok ragazzi va bene anche allora questi sono i due scenari tenetevi a mente poi vediamo quello che succede ci stiamo sopra sul mercato iscrivetevi al canale chiaramente perché bisogna stare attenti a questa fase però 50 rover resistenza iper importante proverà ropperla vediamo domani dopo domani dopo domani insomma questa settimana è una settimana buona per poter fare questo break però ragazzi anche il 3 di maggio e io ho paura quando vedo i mercati salire i primi del mese perché poi chiudono male alla fine del mese va bene probabilmente io se il mercato tenterà un recupero di 60 mila indovinate un po che faccio forse chiudo un pezzettino lo dovete fare voi no perché questa è la mia strategia non mi dovete copiare e non sono consigli finanziari ok comunque lo scriverò sul canale telegramma ragazzi e poi ovviamente una serie di sistemi che mi fanno rientrare sui mercati e questo è il motivo perché faccio queste cose ragazzi quindi se non sapete cosa fare formatevi studiate ma non andate a copiare trader che fanno cose gigantesche e poi non riuscite a mettere l'ordine perché magari non avete la connessione al cellulare mi raccomando ragazzi ok quindi idee chiare questi sono un video che vi danno un concetto chiaro di quello che sta succedendo vi spiegano anche dei metodi operativi statistici e quantitativi come opera un trader professionista però non li prendete come fotocopie perché non è così e non è questo il loro senso va bene ragazzi ok allora vi ho detto tutto quello che penso vi faccio rivedere di nuovo il grafico questa è l'ipotesi se dovesse essere un annuale ancora da chiudere probabilmente il mercato resterà in questa zona quindi ci disegnerà una candela rossa anche qui quasi sicuramente se l'annuale ancora da chiudere altrimenti se l'annuale chiuso ce ne andiamo a 70 k con grande 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 tranquillità bene fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo nel prossimo video ciao